Grazie Giovanni, un saluto a tutti i nostri telespettatori. Sì, sono qua proprio con Simone Pesce che è appena arrivato qui al Centro Arvedi, è appena arrivato in Grigio Rosso. Allora, vogliamo per primi presentarti in questa tua prima intervista ufficiale ai tifosi Grigio Rossi. Che giocatore sei? Tanto buonasera a tutti. Giocatore di temperamento, di corsa. E niente, vengo qua perché, come ho detto prima, c'è stata tanta voglia di venire perché la Cremonese mi ha cercato con tanta insistenza, mi ha fatto sentire un giocatore importante per questa società e per questo progetto. E quindi ho preso questa decisione. Spero di ripagare in toto la fiducia che loro hanno riposto in me. Ecco, erano tante le società che ti volevano, addirittura alcuni siti ti davano già al Catania. Invece tu hai scelto la Cremonese, l'avevi già vista giocare, conosci qualcuno. Che cosa ti ha portato a questa decisione? No, mi ha portato intanto la voglia con cui il direttore e la proprietà mi hanno cercato e mi hanno fatto sentire importante, che per un giocatore è sempre una cosa fondamentale. E poi comunque qui c'è una piazza ambiziosa, c'è voglia di fare bene, quindi anche quello per un calciatore è un aspetto molto importante. Ecco, ci sarà domenica la prima partita del girone di ritorno contro il Bassano, una partita comunque impegnativa contro una squadra forte. Ovviamente non sappiamo se l'allenatore, se il mister deciderà di metterti nell'undici titolare, ma tu ti senti già pronto, sei allenato? No, no, allenato sì, sicuramente in questi sei mesi non ho giocato tanto, quindi ritmo partita un po' mi manca, però mi sono sempre allenato, non ho mai avuto problemi. Questo deciderà l'allenatore, se deciderà di schierarmi, cercherò di dare tutto fin quando ne avrò e poi intanto la cosa importante è che domenica si inizi a fare un risultato positivo. Questa deve essere la preblocativa.